Bella ragazzi, eccoci su Putering Waves, sapete che in game ci sono i tactical hologram che semplicemente sono delle boss fight un po' più complesse dove i boss cambiano le loro meccaniche, pian piano che saranno in difficoltà e di livello, ok? E questi fight effettivamente sono da imparare, ok? Non sono facilissimi, soprattutto quando siamo al livello più basso di loro, bisogna conoscere cosa fanno questi boss, anche perché poi sono meccaniche che ci ritroviamo nella Tower of Adversity, perché nella Tower of Adversity abbiamo il terzo piano della terza difficoltà dove la Torre Centrale ha due boss a livello 100, che sono proprio due di questi, no? E quando sono questi due boss effettivamente dobbiamo sapere quelle meccaniche, oltre che poi ad avere abbastanza danni, però vabbè, quello lì ci arriviamo, nel senso pian piano che saliamo, no? Quindi io volevo iniziare oggi parlandovi di Beringal, quali sono le meccaniche base del Beringal e come muoversi quando vediamo delle determinate cose. O almeno ci provo, ok? Questo è un tentativo che voglio fare per vedere se posso aiutarvi, quindi facciamo un tentativo. Chiaramente userò la difficoltà 3 per spiegarvi le meccaniche, insomma, adesso perché la 4 ovviamente è un po' più impegnativa se devo stare dietro a parlarci anche, quindi proviamo, ok? Allora, all'inizio lui fa sempre due attacchi dove dove doggiare, quindi dodge 1, dodge 2, ok? Ok? È sempre così, dodge 1, adesso quando lui carica indietro dei peri peri, è sempre così. L'inizio di Beringal è letteralmente sempre così, potete fare le vostre finestre di danno, dodge, dodge, ok? Vedete sempre, ok? Qua volete fare 3 dodge sui cerchi, 1 dodge, 2 dodge, 3 dodge, ok? Poi chiaramente, attenzione che i peri, ricordatevi che è meglio se usate spade o guanti come personaggio che viene più spontaneo. Dodge, dodge, no? Vedete che fa sempre questo doppio attacco, insomma. Dodge, dodge, parry, vedete che salta indietro ogni volta e ha la stessa identica rotazione, ok? Quindi, attenzione, non spammate attacchi, aspettatevi vedere che animazione sta facendo il boss, insomma. Dodge, ancora più una volta, e qui abbiamo le nostre finestre di danno, no? Triplo dodge, 1 dodge, 2 dodge, 3 dodge, ok? Ovviamente qui non sto cercando di cleararlo velocemente, voglio solo farvi vedere che cosa fa il boss e cosa fa, e quando fa queste cose vedete che ha sempre questo doppio dodge, ancora una volta. Dodge, ora salta indietro, e parry. Olè, è sempre uguale, una volta che lo imparate, ok? Ok, qua, dodge, attenzione, dodge, anche se non vedete 3, dodge, qua ne fanno i due di fila, dodge, dodge di fila, attenzione, ok? Perfetto. Ovviamente, nel frattempo, vi fate le vostre finestre di danno, ok? Qui è, beh, no? È perry adesso, guardate lì, il cerchio, occhio, ok? Ovviamente, nel frattempo, voi fate tutti i vostri sbarco che dovete fare. Qui abbiamo fatto un dodge, appena si muove è dodge, se salta all'indietro fa cose strane, è perry, solitamente, ok? Qua è dodge. Non lo so cercando, ok, qui dovevo doggiarlo, non l'ho doggiato, nel senso, però vedete che la meccanica... Allora, qui sono 6 dodge di fila appena passa al suo tronco. Solitamente, mentre lo fa, attenti che l'ultimo lo fa molto velocemente, ok? Lì, il mio consiglio è, togliete il mouse, togliete le mani da WASD, non vi muovete, fate solamente dodge all'inizio per imparare, qua è perry, ok? Lì, quando gira quel tronco lì, in realtà, c'è anche un altro modo di farlo, adesso non sono riuscito a farlo come volevo farvelo vedere, però... Tecnicamente sono 6 dodge di fila, dove quinto e testo sono estremamente vicini tra loro, ok? Questo è molto importante, insomma. Però, la cosa che mi interessava è che magari avevate questo video dove potevate effettivamente riguardarvi con calma quello che faccio mentre ve lo dico, e magari poteva aiutarvi per i vari clear, anche perché Beringale è un boss che trovate anche in Tower of Adversity, nel senso, no? Quindi, poteva effettivamente tornare utile, ovviamente la cosa importante da capire sarà come inserire le vostre finestre di danno, no? Dodge, ancora una volta, dodge, dodge, doppio dodge, ok? Vedete che, come vedete, è letteralmente sempre così, ma attenzione, guardate sempre cosa fa, guardate sempre cosa fa, Perry, che ho failato, allora vedete, la cosa bella è sapere cosa fa, poi ovviamente metterlo in pratica, nel senso, io poi sapevo benissimo che dovevo fare Perry, insomma, no? Sapevo molto bene che dovevo fare Perry, però l'ho failato, ok? E queste sono le meccaniche base del Beringale, d'accordo? Qua sono difficoltà 3, a difficoltà 4, quello che può succedere a volte è che magari, quando fa, magari sale sul tronco che fai il dodge, Dodge, triple, doppio dodge, ok? Lì potrebbe cambiare l'ordine, magari il doppio dodge ve lo mette all'inizio, invece che per ultimo, quindi quando sale di difficoltà, potrebbe semplicemente mischiare queste meccaniche, ma la cosa da sapere è che una volta che sapete le animazioni, ovvero è sul tronco, oppure sta facendo la carica indietro, Perry, oppure siamo all'inizio, doppio attacco, doppio dodge, ok? È quello che volevo fare vedere, quindi quali sono proprio le meccaniche base del Beringale, in modo che pian piano che lo affrontate, ci sono andate più tranquilli e riconoscete le animazioni, quindi questo era solamente un primo tentativo per spiegarvelo, insomma, chiaramente sarà interessante farlo anche con gli altri boss, penso che il più... gli altri 3 sicuramente saranno anche molto interessanti da fare, perché è più difficile spiegare cosa fanno, perché a volte fanno meccaniche più mixate, ma anche lì è possibile riconoscere cosa sta succedendo, tranne il Tempest Mephis che è... il Tempest Mephis che ho fatto anche lui di Picotta 4, ma lui è allucinante, cioè lui evoca una copia di se stesso, e devi stare attento a cosa fanno due copie, e non sono nemmeno tutte telegrafate, quindi l'unica cosa sul Tempest Mephis è che bisogna capire quando fare i Perry, quando fare i Dodge e quando stare fermi, ok? Quindi è importante capire un attimo le finestre di danno del Beringal. Adesso vado un attimo di nuovo in Beringal per farvi vedere una cosa che volevo farvi vedere quando ruota il tronco, e poi dire che abbiamo finito. Allora, vediamo se lo fa, dovrebbe farlo a breve. Se vuole, ovviamente, se no non lo fa. Ok, Dodge. Per farvi vedere... Ok, eccolo qua. Allora, Dodge, attacco, attacco, dodge, attacco, attacco, dodge, attacco, attacco, dodge, attacco, attacco, dodge. Ok. Solitamente dovreste riuscire a chiudere due attacchi base e fare un Dodge ogni volta di timing. Il problema è che è un timing che dipende anche dal personaggio che state usando, perché solitamente con Zhang Xin mi trovo molto comodo, faccio attacco base, attacco base, dodge, attacco base, attacco base, dodge, attacco base, attacco base, dodge. Insomma, potete incastrare più attacchi quando lui fa quel giro di tronco, ok? Ok, niente, comunque, ovviamente adesso ho usato il rover perché erano i personaggi che avevo buildati, e poi ognuno di voi usa i personaggi che vuole, ok? Semplicemente, assolutamente, tutto quello che avete visto lo potete fare con qualsiasi PG. Attenzione solamente ai perry, ok? Perché vi ricordo che i personaggi con la pistola non possono trovare i perry lì con l'attacco base così, e nemmeno con i rectifier, normalmente con il primo attacco base riesce a farlo. Quindi, attenzione che tipo i rectifier servono l'attacco caricato, o il jump attack. Insomma, con i rectifier è un po' diverso. Ovviamente con personaggi che utilizzano guanti, o spade, basta che fate il primo attacco base nel momento giusto, e avete risolto, ok? In realtà si possono fare i perry anche con le intro skill, ok? È una cosa molto bella, o con le outro addirittura. Cioè, supponiamo che io la con certo energy e posso switchare a Yang Yang, quando so che mi sta per arrivare il perry, e come vedete adesso sapete, quando mi sta arrivando il perry, ad esempio, del Beringal, poi ogni boss ha i suoi timing, ok? Tipo col Tempest Merphys è molto più frequente la cosa. Io posso anche semplicemente, mentre sto attaccando, switcho outro skill del mio rover, e fa perry lui, mentre entra il mio nuovo pg in campo. Però, magari, li vedremo con un po' più calma i perry, ok? Per il resto, spero sia stato utile, fatemi sapere, era qualcosa che volevo provare a vedere se, raccontandovela, magari, vi aiutava un po'. Ditemi un po' la vostra, ok? Ditemi voi cosa siete riusciti a fare, se avete trovato difficoltà. Un ultimo consiglio che vi posso dare per questi boss, questa era più, volevo solamente farvi vedere il Beringal, come funziona le sue meccaniche, ma, dovete sapere che per questi boss, essendo che sono one time, una volta che li tirate, avete finito, insomma, però, hanno, chiaramente, la loro difficoltà, voi potete tranquillamente usare il cibo, ok? Potete usare i cibi per buffarvi, che andate a fare da tutti i cucinini che ci sono qui, no? Ok? E i cibi vi aiutano veramente tanto in termini di danno, se volete. Io adesso, chiaramente, non li ho usati, però, magari, per difficoltà un po' più alte, potrebbe far comodo avere cibi che ti aumentano il 40% d'attacco, oppure che ti aumentano gli HP e la difesa, se, così, magari, non vieni super punito, se viene attaccato almeno una volta, no? Mi potete usare i cibi, sono degli encounter one time, o magari vi aiutano, però, reputo che le meccaniche dei boss siano sempre abbastanza importanti. Per il video è tutto, noi ci vediamo, alla prossima, grazie di cuore a tutti per il supporto, fate i bravi, beeeenno! Questa è la canale! Cos' Feeling